Ben trovati ai telespettatori di Cilento Channel ad un nuovo appuntamento dedicato alla rubrica nutrizione e benessere curata dal dottor Andrea Ricci, biologo nutrizionista, che per questa settimana ci parlerà delle proprietà della pasta. E allora, perché mangiarla la pasta, dottore? E in che quantità, ovviamente? La pasta è ovviamente uno degli alimenti più consumati in Italia. Si calcola che circa ogni persona ne mangi 26 chili in un anno. Ed è anche l'alimento che ci rappresenta forse più nel mondo insieme alla pizza. La pasta si ottiene un prodotto ottenuto dalla lavorazione del grano duro. Ne esistono quattro tipologie principali, sono la pasta secca, la pasta fresca, l'uovo e le paste speciali. Ovviamente per comodità, dato che le varie tipologie di pasta si differenziano per gli ingredienti, per l'umidità, la ruvidezza, la forma, eccetera, prenderemo come campione ad esempio la pasta secca industriale, che è quella che consumiamo in maggiore quantità. 100 grammi di questo tipo di pasta apportano all'incirca 350 calorie, quindi un prodotto a medio-alto contenuto energetico, con proteine di medio valore biologico, sali minerali, poche vitamine e poche fibre. Ovviamente questa è la pasta secca, industriale, raffinata, però c'è anche quella integrale, dove rispetto a quest'altro tipo diminuiscono un po' le calorie, aumentano le concentrazioni di proteine e di grassi e diminuisce quella di carboidrati, però in più hanno sicuramente un miglior contenuto vitaminico e anche una maggiore ricchezza di fibre. Queste fibre in più ovviamente ci aiutano a regolarizzare l'intestino, a dare un maggiore senso di sazietà e ovviamente la pasta integrale poi ha anche un minore indice glicemico. Comunque la pasta in generale serve anche a mettere buon umore, è la principale fonte di energia, quindi fondamentale per il cervello, per la muscolatura e un recente studio ha dimostrato anche che chi mangia regolarmente la giusta porzione di carboidrati ha un'aspettativa di vita più lunga e anche una salute migliore rispetto a chi ne mangia molto di meno o molto di più. Per quanto riguarda le porzioni ovviamente siamo per un soggetto diciamo medio, quindi anche con un allenamento, un'attività fisica regolare, sugli 80 grammi per le donne e i 100 grammi per gli uomini. Ovviamente quando poi invece si ha necessità di perdere peso, queste quantità ovviamente possono diminuire, però a dispetto di molte diete che si sentono anche ultimamente, è un po' alla moda anche di eliminare quasi carboidrati, possiamo dire che non è quasi mai, a meno di piani alimentari molto particolari che comunque devono essere sempre dettati dal nutrizionista, dal dietologo, non è quasi mai una buona scelta eliminare del tutto i carboidrati. Infatti possiamo sfatare quindi il mito che la pasta è la nemica della dieta e quindi della linea? Esatto, per dimagrire non c'è bisogno di eliminare la pasta, ricordiamo che la pasta è anche uno dei fondamenti principali della dieta mediterranea e possiamo sfatare anche un altro mito, cioè quello che prevede di non mangiare la pasta la sera. In effetti non c'è nessun motivo per non mangiarla la sera, anzi i carboidrati hanno anche una maggiore e anche più rapida digestione rispetto invece a piatti più ricchi di proteine e di grassi, inoltre essendo digeriti anche meglio e prima ci aiutano anche per il sonno e quindi anche a dormire meglio, a riposare meglio. Bene, grazie dottore, grazie anche ai nostri telespettatori che sono fedeli alla rubrica nutrizione e benessere, l'appuntamento ritorna alla prossima settimana sempre e soltanto su Cilento Channel.